42. Josh trassalì al suono del megafono. Prima che riuscisse a fare anche un solo passo in avanti, un braccio gli prese il collo da dietro e iniziò a stringere. Si rese conto che era il vecchio barba nera. «Il bastardo sta tentando di bloccarmi proprio qui!» Distinto, Josh fece scattare indietro la testa in quello che sul ring era noto come reverse coconut butt. Ma questa volta ci mise tutta la sua forza. Il suo cranio si abbatté sulla fronte di barba nera e di colpo il braccio che lo tratteneva sparì. Josh si voltò per finire il lavoro e vide che l'uomo era caduto con il culo per terra, con gli occhi vitrei e la fronte che stava già diventando viola. L'altro folle sollevò il fucile. «Vai!» ordinò e si sorrise, mostrando i denti verdi. Josh non aveva tempo da perdere. Si voltò e iniziò a correre alla massima velocità lungo la corsia centrale. Aveva fatto appena sei lunghi passi quando una mazza da baseball colpì lungo il pavimento e lo prese alla caviglia destra. Josh cadde, svatendo sul pavimento con la pancia, e scivolò per quasi due metri sul linoleum. Si voltò all'istante per affrontare il suo avversario, che si era nascosto dietro un bancone pieno di calzini e mutande. L'uomo, che indossava un casco da football rosso, si alzò e corse verso Josh, muovendo la mazza per segnare un fuoricampo vittorioso. Josh portò le ginocchia al petto, scalciò verso l'alto e colpì il folle dritto alla pancia con entrambi i piedi, sollevandolo di oltre un metro in aria. L'uomo atterrò sull'osso sacro e Josh si rimise in piedi per dargli un calcio all'inguine, come se stesse tirando un calcio piazzato da cinquanta metri. Mentre l'uomo si contraeva per formare una palla tremante, Josh riuscì a mettere la mano sinistra sulla mazza e la raccolse. Riuscì a farla scivolare fino a tenerla dall'impugnatura, e anche se non aveva davvero modo di usarla con efficacia, almeno adesso aveva un'arma. Si voltò per proseguire nella corsia, e si trovò davanti un tizio magro con un'ascia, e un altro bastardo con la faccia dipinta di blu, che teneva in mano una mazza da muratore. Niente da fare, pensò Josh, e corse in una delle altre corsie, con l'intenzione di arrivare al reparto animali domestici da un'angolazione diversa. Si scontrò con un manichino femminile, e la testa dai capelli castani cadde a terra dalle spalle. Quattro minuti, amico Josh, annunciò la voce di Lord Alvin. Una figura con un coltello da macellaio tenuto in alto, uscì da dietro un espositore di vestiti proprio sul percorso di Josh. «Non posso fermarmi», pensò Josh, incapace di bloccare le ginocchia in tempo. Invece avanzò con impeto, si gettò a terra, e si abbatté contro l'uomo con il coltello, gettandola nell'espositore di vestiti che crollò su entrambi. L'uomo colpì con il coltello, lo mancò, colpì di nuovo e restò incastrato con la lama nel tessuto. Josh gli salì sul petto, e abbatté la mazza sulla sua testa, una volta, due volte e ancora una terza. Il corpo tremò, come se fosse stato collegato a una presa elettrica. Poi Josh sentì un dolore pungente al collo, si guardò intorno e vide un maniaco sghignazzante in pantaloni di tela, con in mano una canna da pesca. La lenza era tesa tra di loro, e Josh capì che c'era un amo nella sua pelle. Il pescatore folle strattonò la canna come se stesse pescando un marlin da primo premio, e l'amo lacerò il collo di Josh. La canna si mosse di nuovo e l'amo si muoveva verso la faccia di Josh, ma lui si abbassò e uscì a fatica dai vestiti, rimettendosi in piedi e riprendendo a correre verso il reparto animali domestici. «Tre minuti rimasti, amico Josh!» «No!» pensò Josh. «No! Il bastardo stava imbrogliando! Non poteva essere passato un altro minuto!» Superò di corsa un manichino ben vestito nel reparto uomini, ma di colpo il manichino prese vita e gli saltò sulla schiena, e le sue dita tentarono di artigliargli gli occhi. Lui continuò a correre mentre l'uomo si teneva aggrappato, con le unghie scheggiate che graffiavano le sue guance, e davanti a lui si ritrovò un uomo nero, magro e a petto nudo, con un cacciavite in una mano e un coperchio di bidone della spazzatura nell'altra. Josh corse alla massima velocità verso l'assassino in attesa, e poi si fermò di colpo, scivolando sul pavimento. Si abbassò e inarcò le spalle. L'uomo sulla sua schiena perse la presa e volò in aria, ma la mira di Josh era sbagliata. Invece di abbattersi sull'uomo nero, come Josh aveva sperato, il folle ben vestito volò su un bancone pieno di magliette estive e colpì il pavimento. L'uomo nero attaccò, muovendosi come una pantera. Josh colpì con la mazza, ma il coperchio del bidone si alzò per deviarla. Il cacciavite si mosse verso lo stomaco di Josh, lui si contorse e l'arma gli graffiò le costole. Combatterono corpo a corpo, con Josh che evitava disperatamente i colpi del cacciavite e tentava in vano di assestare un buon colpo con la sua mazza. Mentre lottavano, Josh colse del movimento su entrambi i lati, altri di loro in arrivo per ucciderlo. Sapeva che sarebbe morto se non fosse riuscito a liberarsi di questo fratello pazzo, perché un uomo rozzo con delle forbici da giardinaggio lo aveva quasi raggiunto. I denti dell'uomo nero tentarono di mordere la guancia di Josh. Lui vide l'apertura e cadde in ginocchio, scivolando tra le sue gambe aperte come un maiale oliato. Quando l'altro si voltò, ricevette un colpo che gli frantumò la faccia e mandò dei denti a volare in aria. Fece due passi barcollanti e cadde a terra come un albero. Josh riprese a correre, con il respiro che fischiava nei suoi polmoni. «Due minuti!» gracchiò Lord Dalvin. «Più veloce!» disse Josh a se stesso. «Più veloce, dannazione!» Il reparto animali domestici era ancora così lontano e quel figlio di puttana stava accelerando il tempo. «Proteggi la bambina! Devo prote...» Un pazzo con il volto pitturato di bianco si alzò da dietro un bancone e colpì la spalla sinistra di Josh con un cerchione. Josh urlò di dolore e cadde su un espositore di latte d'olio per motori Quaker State, con il dolore che gli scorreva dalle braccia alla punta delle dita. Aveva perso la mazza da baseball, che stava rotolando lungo la corsia fuori dalla sua portata. Il pazzo con la faccia bianca lo attaccò, colpendo selvaggiamente con il cerchione, mentre Josh lottava freneticamente. Il cerchione colpì il terreno accanto alla testa di Josh e spaccò una delle latte d'olio. E poi lottarono come due animali, uccidi o verrai ucciso. Josh colpì l'uomo alle costole con un ginocchio e lo respinse, ma quello saltò di nuovo in avanti. Rotolarono nell'olio di motore sparso per terra e l'avversario di Josh si contorceva come un'anguilla. Poi l'uomo fu di nuovo in piedi, caricò Josh con il cerchione sollevato per colpirlo sulla testa. Ma i suoi piedi scivolarono sull'olio e lui franò a terra con la schiena. Subito Josh si avventò su di lui e con un ginocchio bloccò il cerchione mentre l'altro premette sulla gola dell'uomo. Sollevò entrambe le mani e sentì se stesso urlare con furia mentre colpiva con la catena, concentrando contemporaneamente tutto il suo peso sulla gola. Sentì il suo ginocchio affondare in qualcosa di soffice e l'impronta scarlatta restò impressa sulla faccia dell'altro come un tatuaggio. Josh si rimise in piedi con difficoltà, respirando a fatica. La sua spalla pulsava con un dolore atroce, ma non poteva cedere. «Continua!» disse a se stesso. «Muoviti, idiota!» Un martello gli volò accanto, andando a colpire un espositore di coprimozzi. Lui scivolò e cadde in ginocchio. Aveva del sangue in bocca e che gli scorreva sulle guance e i secondi passavano. Pensò allo scarafaggio sul pavimento del fienile, sopravvissuto a insetticidi, a stivali e all'olocausto nucleare. Se una cosa del genere aveva avuto la volontà di vivere, allora ce l'aveva anche lui, dannatamente. Josh si alzò, corse lungo la corsia, vide altre tre figure venire verso di lui e saltò su un bancone per finire in un'altra corsia. Una svolta a sinistra, e davanti a lui si aprì un corridoio fiancheggiato da casalinghi, pentole e padelle. E molto più avanti, in fondo a esso, sedeva Lord Dalvin, guardando dal suo trono. Sulla parete e alle sue spalle c'era il cartello «animali domestici». Josh poteva vedere il nano saltare su e giù nel carrello e il volto di suon era girato verso di lui. Crybaby era così vicino, eppure così lontano. «Un minuto!» annunciò Lord Dalvin con il megafono. «Ce l'ho fatta!» si rese conto Josh. «Buondio, ci sono quasi! Non possono essere più di una decina di metri fino al bastone dell'abdomante!» iniziò a correre, ma sentì il basso ruggito e il lamento acuto, e il Neandertal con la motosega entrò nella corsia per bloccargli la strada. Josh si fermò di colpo. Il Neandertal, con la testa calva che risplendeva sotto le luci, fece un piccolo sorriso e lo aspettò. I denti della motosega erano una macchia confusa di metallo mortale. Josh si guardò intorno per cercare un'altra strada. La corsia dei casalinghi era una fila ininterrotta di utensili da cucina, bicchieri e stoviglie, eccetto che per una corsia che girava a destra a tre metri di distanza, e a quell'ingresso c'erano di guardia tre pazzi armati con coltelli e attrezzi da giardinaggio. Si voltò per tornare sui suoi passi, e a circa cinque metri dietro di lui c'era il folle con la canna da pesca e quello con i denti verdi e il fucile. Vide altri di loro in arrivo, mentre prendevano posizione per guardare il finale del gioco della camicia di forza. «Sono spacciato», pensò Josh. Ma non solo lui. Swan e Liona sarebbero morte se non avesse raggiunto il traguardo. Non c'era altra via se non superare il Neandertal. «Quaranta secondi, amico Josh!» Il Neandertal mosse in aria la motosega, sfidando Josh a farsi avanti. Lui era quasi sfinito. L'altro maneggiava la motosega con estrema facilità. Avevano fatto tutta quella strada per morire in un Kmart pieno di mentecatti e vasi. Josh non sapeva se ridere o piangere, quindi disse soltanto «Merda!» Beh, decise. Se il suo destino era morire, avrebbe fatto del suo meglio per portare il Neandertal con sé. Josh si attrizzò in tutta la sua altezza, gonfiò il petto e fece una risata ruggente. Anche il Neandertal sorrise. «Trenta secondi!» disse Lord Alvin. Josh gettò indietro la testa, lanciò un urlo di guerra a pieni polmoni e poi caricò come un camion back fuori controllo. Il Neandertal restò al suo posto, rafforzò le gambe e colpì con la motosega. Ma Josh saltò all'indietro di colpo, oltre la portata della motosega, che sfiorò la sua faccia con l'aria spostata quando gli passò davanti. La cassa toracica dell'altro era un bersaglio scoperto e prima che il Neandertal riuscisse a riportare in alto la motosega, Josh diede un calcio a quelle costole come se volesse fare un fuoricampo. Il volto dell'uomo si contrasse per il dolore e lui arretrò di qualche passo, ma non cadde. Poi riprese l'equilibrio e iniziò a correre verso Josh con la motosega che incombeva sulla sua testa. Josh non ebbe tempo di pensare, ma solo di agire. Sollevò le braccia davanti al volto. La motosega colpì la catena intorno ai suoi polsi, emettendo scintille. La vibrazione scagliò Josh e il Neandertal in direzioni opposte, ma ancora nessuno dei due cadde. «Venti secondi!» risuonò il megafono. Il cuore di Josh martellava, ma era stranamente calmo. Si trattava di raggiungere il traguardo oppure no. Nulla più di questo. Si accovacciò e avanzò con cautela, sperando di far cadere l'altro in qualche modo. E poi il Neandertal fece un salto in avanti, più rapido di quanto Josh si fosse aspettato da quell'uomo grosso. E la motosega cercò di colpire la sua testa. Josh fece per saltare all'indietro. Ma il colpo con la motosega era una finta. Il piede destro del Neandertal si sollevò e prese Josh allo stomaco, facendolo volare lungo la corsia. Cadde sul bancone di pentole, padelle e utensili da cucina che piovero intorno a lui come una pioggia di metallo. «Rotola!» gridò Josh nella sua mente. E quando rotolò di lato, il Neandertal calò la motosega nel punto in cui si era trovato, facendo un'incisione di mezzo metro nel pavimento. Rapidamente Josh si voltò di nuovo dall'altra parte e scalciò verso l'alto, colpendo il suo avversario proprio sotto la mascella. Il Neandertal fu sollevato in aria e poi anche lui cadde sull'espositore di casalinghi, ma mantenne la presa sulla motosega e iniziò a rimettersi in piedi, mentre del sangue gli colava dagli angoli della bocca. Il pubblico urlò e applaudì. «Dieci secondi!» Josh si alzò sulle ginocchia, prima di rendersi conto di cosa ci fosse disseminato intorno a lui. Non solo pentole e padelle, ma tutta una serie di coltelli. Ce n'era uno con la lama da venticinque centimetri proprio davanti a lui. Mise la mano sinistra sul manico. costrinse le dita a chiudersi con la pura forza di volontà e il coltello fu suo. Il Neandertal, con gli occhi annebbiati per il dolore, sputtò dei denti e quello che poteva essere stato un pezzo della sua lingua. Josh si alzò in piedi. «Avanti!» gridò, facendo delle finte con il coltello. «Avanti, pazzo di uno stronzo!» L'altro uomo lo accontentò. Iniziò a camminare lungo la corsia verso Josh, muovendo la motosega da un lato all'altro in un arco mortale. Josh continuò a muoversi all'indietro. Si guardò rapidamente oltre la spalla, vide il pescatore pazzo e l'uomo con il fucile a un metro e mezzo dietro di lui. In una frazione di secondo si rese conto che Denti Verdi stava tenendo il fucile con una presa lenta e rilassata. Alla sua cintura sferragliava l'anello di chiavi. Il Neandertal stava avanzando con costanza e, quando sorrise, del sangue gli uscì dalla bocca. «Stai andando nella direzione sbagliata, amico Josh!» disse Lord Dalvin. «Ma non ha comunque importanza. Il tempo è finito. Vieni a prendere la tua pillola!» «Macciami il culo!» gridò Josh e poi girò su se stesso con un movimento rapidissimo e conficcò la lama nel petto di Denti Verdi appena sopra al cuore. Mentre la bocca del pazzo si apriva per urlare, Josh strinse la mano sinistra intorno al paragrilletto del fucile e tirò via l'arma. L'uomo cadde a terra schizzando sangue arterioso. Il Neandertal caricò. Josh si voltò in quello che sembrava un rallentatore da incubo. Lottò per tenere saldo il fucile, tentando di mettere il dito sul grilletto. Il Neandertal gli era quasi addosso e la motosega si stava abbassando in un tremendo fendente. Josh stabilizzò il calcio del fucile sul proprio petto e sentì il terribile spostamento d'aria causato dalla sega. Il suo dito trovò il grilletto e lo premette. Il Neandertal fu colpito a meno di un metro di distanza, con la motosega sul punto di incontrare la carne. Ma all'istante successivo, nella sua pancia si aprì un buco grande quanto un pugno. In metà della sua schiena esplose. La potenza del colpo scosse Josh e quasi strappò il Neandertal dai suoi stivali. La motosega passò accanto al volto di Josh e il peso di questa trascinò il morto come una trottola lungo la sia insanguinata. «E' scorretto!» gridò Lord Dalvin saltando in piedi dal suo trono. «Non hai rispettato le regole!» Il cadavere colpì il suolo, ancora tenendo la motosega, e i denti metallici incisero un cerchio nel linoleum. Josh vide Lord Dalvin gettare via il megafono e mettere una mano nella vestaglia. Il pazzo la tirò fuori con un dito scintillante in più, un coltello da caccia con la lama a mezzaluna, come una falce in miniatura. Lord Dalvin si avventò su suonnelli una. Per lo sparo del fucile gli altri pazzi erano fuggiti per mettersi al riparo. A Josh restava un colpo e non poteva permettersi di sprecarlo. Corse avanti, superò con un salto il corpo che si agitava e si precipitò verso il reparto animali domestici dove Lord Dalvin, con la faccia contorta in un misto di rabbia e qualcosa che poteva essere e pietà, si inginocchiò davanti a suon, afferrandole la nuca con la mano libera. «Morte! Morte!» strillò Folletto. Suon guardò in faccia Lord Dalvin e seppe che stava per morire. Le lacrime le bruciavano gli occhi, ma sollevò il mento in un gesto di sfida. «È tempo di dormire», sussurrò Lord Dalvin. Sollevò la lama ricurva. Josh scivolò sul pavimento insanguinato e cadde, scivolando contro un bancone a due metri dal bastone d'arabdomante. Si affrettò a rialzarsi, ma sapeva che non sarebbe mai arrivato in tempo. Lord Dalvin sorrise e due lacrime gli scesero dagli occhi di quel verde torbido. La lama ricurva era pronta, sul punto di calare. «Dormi», disse. Ma una piccola forma grigia era già strisciata fuori da dietro ai sacchi di cibo per cani e sabbia per lettiere, e ringhiando come un segugio infernale, si avventò sulla faccia di Lord Dalvin. Il terrier strinse le zanne sul naso sottile e delicato di Alvin Mangrim, attraverso carne e cartilagine e tirò all'indietro la testa dell'uomo. Lord Dalvin cadde su un fianco, dimenandosi, gridando e tentando freneticamente di togliersi di dosso l'animale, ma il terrier mantenne la presa. Josh saltò oltre Crybaby. Vide suon e leona ancora vive, vide il cane che mordeva il naso di Lord Dalvin e vide il pazzo agitare il suo coltello. Josh puntò il fucile contro la testa dell'uomo, ma non voleva colpire il cane e sapeva che avrebbe avuto bisogno di quel colpo. Improvvisamente il terrier liberò Lord Dalvin e si allontanò con della carne insanguinata tra i denti, poi piantò le zampe per terra e iniziò ad abbaiare a raffica. Lord Dalvin si mise a sedere, con quello che restava del suo naso che pendeva dalla faccia e gli occhi spalancati per lo shock. Blosfemia! Blosfemia! gridò, poi saltò in piedi e fuggì dal reparto, ancora urlando. Lì accanto, Folletto era l'ultimo dei sudditi di Lord Dalvin rimasti in zona. Il nano stava similando maledizioni contro Josh, che andò fino al carrello, lo fece girare e lo mandò a sfrecciare lungo la corsia. Folletto salto fuori un paio di secondi prima che si scontrasse con gli acquari e si ribaltasse. Alvin Mangrim aveva lasciato indietro il suo coltello e Josh passò un paio di minuti ansiosi a tagliare le corde che legavano suon e liona. Quando le mani della bambina furono libere, gettò le braccia al collo di Josh e lo strinse forte, con il corpo che tremava come un alberello tenace in un tornado. Il terrier si avvicinò abbastanza perché Josh lo accarezzasse e si sedette sulle zampe posteriori, con il muso rosso per il sangue di Lord Dalvin. Per la prima volta, Josh si accorse che il cane indossava un collare antipulci e su di esso c'era una piccola medaglietta con il nome su cui c'era scritto Killer. Josh si inginocchiò accanto a liona e la scosse. Le palpebre della donna tremolarono. Il volto era molle e aveva un terribile rigonfiamento viola intorno alla ferita, sopra l'occhio sinistro. Commozione cerebrale, si rese conto. O peggio. La donna sollevò una mano per toccare la faccia ricoperta di cerone dell'uomo e poi i suoi occhi si aprirono. Sorrise debolmente. «Sei stato bravo», disse. L'aiutò ad alzarsi. Dovevano uscire in fretta. Josh strinse il fucile contro la pancia e iniziò a camminare lungo la corsia in cui giaceva il Neandertal. Swan recuperò il bastone da rabdomante, afferrò la mano di liona e la tirò avanti come una sonnambula. Killer corse avanti, continuando ad abbaiare. Josh arrivò al cadavere di denti verdi e prese l'anello di chiavi. Si sarebbe preoccupato più tardi di quale chiave aprisse le sue catene. In quel momento doveva uscire da quel manicomio prima che Lord Alvin chiamasse a raccolta i maniaci. Percepirono movimenti furtivi su entrambi i lati della corsia mentre attraversavano il Kmart. Ma i sudditi di Lord Alvin non avevano spirito d'iniziativa. Qualcuno lanciò una scarpa e una pallina di gomma rossa rimbalzò verso di loro, ma per il resto raggiunsero l'ingresso senza incidenti. La pioggia gelida stava cadendo ancora e dopo pochi secondi furono fradici. Le lampade del parcheggio gettavano aloni gialli sulle auto abbandonate. Josh sentì il peso della stanchezza farsi largo in lui. trovarono la loro carriola ribaltata e le loro cose rubate o sparse in giro. Le loro borse e proprietà erano sparite, incluso il cookie monster di Swan. La bambina abbassò lo sguardo e vide alcune delle carte dei tarocchi di Liona sul suolo bagnato insieme a schegge della sua collezione di sfere di cristallo. I sudditi di Lord Alvin non avevano lasciato loro nient'altro che i vestiti inzuppati, incollati ai loro corpi. Swan guardò indietro, verso il Kmart, e sentì un orrore simile a una mano gelida posta su un ostione. Stavano uscendo dalle porte. Dieci o undici figure, guidate da una con una vestaglia viola che gli sbatteva intorno alle spalle. Alcune di loro avevano fucili. «Josh!» Lui continuò a camminare circa tre metri più avanti. Non l'aveva sentita a causa della tempesta. «Josh!» gridò di nuovo e poi fece di corsa il tratto di strada che li separava e lo colpì sulla schiena con Crybaby. Lui si voltò di scatto, con gli occhi stretti. E poi li vide arrivare anche lui. Erano a trenta metri di distanza e avanzavano zigzagando tra le auto. Ci fu il lampo di uno sparo e il lunotto posteriore di un furgoncino Toyota alle spalle di Josh esplose. «A terra!» gridò, spingendo Swan sull'asfalto. Afferrò Liona mentre esplodevano altri punti di fuoco. Il parabrezza di un'altra auto esplose, ma a quel punto Josh, Swan e Liona erano al riparo, accovacciati dietro una Buick Blue con due gomme forate. I proiettili rimbalzarono e del vetro piove intorno a loro. Josh si accovacciò aspettando che i bastardi si avvicinassero prima di alzarsi e sparare l'ultimo colpo. Una mano afferrò la canna del fucile. Il volto di Liona era teso e stanco, ma il calore della vita brillava nei suoi occhi. Teneva il fucile saldamente, tentando di tirarglielo via. Lui resistette scuotendo la testa. Poi vide il sangue che gocciolava dall'angolo della bocca di Liona. Guardò in basso. La ferita del proiettile era appena sotto il cuore. Liona fece un sorriso debole e Josh riuscì a capire quello che disse solo dal movimento delle labbra. Vai. La donna annui verso la distesa più lontana del parcheggio bagnato dalla pioggia. Adesso, gli disse. Josh aveva già visto quanto sangue stava perdendo. Lo sapeva anche lei e lo si leggeva in faccia. Non liberò il fucile e parlò di nuovo. Josh non riuscì a sentirla, ma pensò che poteva essere stato «proteggi la bambina». La pioggia scorreva sul volto di Josh. C'era così tanto da dire, così tanto, ma nessuno dei due poteva sentire l'altro nel rumore della tempesta e le parole erano deboli. Josh lanciò un'occhiata a suon e vide che anche lei aveva visto la ferita. La bambina guardò negli occhi di Liona, poi in quelli di Josh, e si rese conto della decisione che era stata presa. «No!» gridò. «Non ti abbandonerò!» afferrò il braccio di Liona. Uno sparo fece esplodere il finestrino di un pick-up nelle vicinanze. Altri proiettili ne colpirono la portiera, forarono la gomma anteriore e rimbalzarono sul volante. Josh guardò negli occhi della donna e lasciò il fucile. Lei lo tirò a sé e mise il dito sul grilletto. Poi fece cenno agli altri due di andare. Suon la teneva stretta. Liona afferrò Crybaby e spinse con fermezza il bastone dell'abdomante contro il petto della bambina. Poi liberò con decisione il braccio dalle dita di Suon. La decisione era presa. Adesso gli occhi di Liona si stavano velando. Il flusso di sangue era veloce e fatale. Josh la baciò sulla guancia e la strinse in un abbraccio per qualche secondo. Poi gridò «Seguimi!» a Suon e si allontanò avanzando accucciato tra le auto. Non sopportava di guardare di nuovo verso Liona, ma avrebbe ricordato ogni lineamento del suo volto fino al giorno della sua morte. Liona accarezzò la guancia di Suon con le dita di una mano e sorrise, come se avesse visto il volto interiore della bambina e lo tenesse come un cammeo nel cuore. Poi Suon vide gli occhi della donna indurirsi, preparandosi per quello che l'attendeva. Non c'era altro. Suon attese quanto più possibile, prima di seguire Josh nel labirinto di veicoli. Liona si alzò in posizione accovacciata. Il dolore sotto il cuore era una puntura irritante, paragonato alle sue ginocchia reumatiche. Attese, con la pioggia che si abbatteva su di lei. E non aveva paura. Era tempo di volare via dal suo corpo adesso. Tempo di vedere con chiarezza quello che aveva visto solo attraverso un vetro scuro. Attesi ancora un momento. E poi si alzò in piedi e uscì dal riparo della Buick, affrontando il Kmart come un duellante all'ok Corral. Quattro di loro erano a meno di due metri di distanza. E dietro di loro c'erano altri due. Non ebbe il tempo di accertarsi che quello nella vestaglia viola fosse tra di loro. Puntò il fucile in mezzo a loro. E premette il grilletto. Proprio nel momento in cui due dei pazzi spararono contro di lei. Josh e Suon lasciarono la copertura delle automobili e corsero allo scoperto nel parcheggio. Suon quasi si voltò per guardare indietro. Quasi non lo fece. Josh barcollava, con la stanchezza che era sul punto di farlo crollare. Su un lato il cane manteneva il loro passo e sembrava un ratto annegato. Suon si tolse la pioggia dagli occhi. C'era del movimento davanti a loro. Qualcosa stava arrivando attraverso la tempesta. Lo aveva visto anche Josh, senza riuscire a capire cosa fosse. Ma se i pazzi li avevano aggirati, allora erano morti. Il cavallo pezzato eruppe da una tenda di pioggia, caricandone la loro direzione. Ma non sembrava essere lo stesso animale. Questo cavallo sembrava più forte, in qualche modo più valoroso, con una schiena più dritta e coraggio nel suo collo teso in avanti. Sia Josh sia Suon avrebbero potuto giurare di aver visto gli zoccoli di mulo sollevare scintille dall'asfalto. Il cavallo si arrestò davanti a loro, si impennò e scalciò l'aria. Quando l'animale tornò giù, Josh afferrò il braccio di Suon con la mano libera e la sollevò in groppa a mulo. Non era sicuro se lo spaventasse di più cavalcare l'animale o affrontare i pazzi, ma quando osò guardarsi intorno, vide delle figure correre nella pioggia e prese una decisione molto rapidamente. Saltò in groppa dietro a Suon e colpì le costole di mulo con entrambi i talloni. Il cavallo si impennò di nuovo e Josh vide le figure che li inseguivano fermarsi di colpo. Quella in testa indossava qualcosa di viola, aveva lunghi capelli biondi bagnati e un naso maciullato. Josh incrociò per un istante lo sguardo di Lord Alvin, con l'odio che gli ardeva nelle ossa, e pensò «Un giorno, figlio di puttana, un giorno pagherai». Si udirono degli spari. Mulo si voltò e fuggì dal parcheggio come se stesse gareggiando per vincere il Kentucky Derby. Killer li seguiva, correndo nella tempesta. Suon afferrò la criniera di Mulo per guidarlo, ma era il cavallo a decidere la loro direzione. Corsero via dal Kmart, via dalla città morta di Matheson, e attraversarono la pioggia su un'autostrada che si allungava nell'oscurità. Ma nell'ultima luce che proveniva dal Kmart dei pazzi, videro un cartello stradale, su cui c'era scritto «Benvenuti in Nebraska», il Cornhusker State. Lo superarono in un lampo, e Suon non era sicura di cosa ci fosse stato scritto. Il vento le soffiava in faccia, lei teneva Craibaby con una mano e la criniera di Mulo con l'altra, e sembrava che stessero incidendo un sentiero infuocato nel buio, lasciando nella loro scia un mare di scintille. «Credo che non siamo più in Kansas», gridò Suon. «Dannatamente giusto», rispose Josh. Corsero nella tempesta, dirigendosi verso un nuovo orizzonte. E due minuti dopo il loro passaggio, il terrier corse balzando dietro di loro.